Scusa se disturbo soltanto un po' lo so non è il momento no non dico no ma vuoi fare un favore ad un tuo grande ammiratore ti vedo molto bene sto bene anch'io e recitare insieme oh mio dio è così divertente che mi sento quasi un esordiente sto vivendo un momento eccezionale nel lavoro e nella sfera familiare tutti mi amano e mi chiamano maestro altri film sono in programma dopo questo non ho problemi ormai e vedo tutto rosa ma spesso ti penso sai volevo dirti una cosa che io una cosa che io una cosa che io signora Garbo tra cinque minuti in scena scusa stavi dicendo?